A processo la madre della ragazzina di 14 anni che il 25 luglio 2016 nella casa di famiglia Aseano fu azzannata e gravemente ferita dai tre Rottweiler di proprietà del convivente della donna, un carabiniere in servizio nella provincia di Firenze. Il giudice delle udienze preliminari ha disposto il rinvio a giudizio per la donna chiamata a rispondere di abbandono di minore, mentre il convivente, nei confronti del quale il reato è stato riqualificato in lesioni colpose, è stato condannato con rito abbreviato al pagamento di 400 euro di multa. La ragazzina era in casa assieme alla sorella di 16 anni quando i tre cani, una femmina e due maschi, le si avventarono contro, mordendola e procurando le lesioni multiple alla testa e alle orecchie. La 14enne fu salvata dai vicini di casa che sentirono le sue urla e quelle della sorella che si trovò davanti alla terribile scena. Uno dei vicini non esitò a colpire i cani con un televisore pur di strapparli di dosso alla ragazzina che finì all'ospedale pediatrico Meyer dove fu sottoposta a un intervento chirurgico di 5 ore per ricucire le ferite. Nella prima fase delle indagini si parlò di un abbattimento dei cani, ipotesi ad oggi esclusa. Dal giorno del sequestro i Rottweiler sono affidati al canile municipale e in questi giorni potrebbero venire dati in adozione.